Lo sarà sempre di più. Domanda A me sembra che il tuo eloquio sia più fluido dell'ultima riunione. Mi sbaglio? Guida No, e lo sarà sempre di più. Ve l'avevamo detto anche l'ultima volta. Domanda Mi sembra che voi abbiate detto che avreste preso più tempo per intervenire sul linguaggio dello strumento che era un po' inceppato. Guida Era pieno di errori di concordanza. Infatti non è ancora un eloquio fluido. Domanda Quando agisci sullo strumento? Durante la notte? Guida Continuamente, non più solo durante la notte. Domanda Attraverso le sue preghiere? Guida Quando si entra in contatto, si entra in contatto costantemente e continuamente. Guida